Presidente Sebastiani nel dopopartita con la Vispesero era molto arrabbiato anche per la direzione di gara e anche per l'atteggiamento di una Vispesero che non ha permesso di giocare a calcio, è passata l'arrabbiatura. Ma no, non era arrabbiato per l'atteggiamento della Vispesero, ci mancherebbe, loro sono venuti a fare la loro partita. Era una battuta quella di dire no, c'era stato il problema dei Pullman, era una battuta. Però dimensionava la gara. Dimensionava la gara perché loro sono venuti a fare quel tipo di partita lì, ma ci mancherebbe, ognuno fa quello che può fare e quello che vuole fare. L'arbitro? Sull'arbitro mi sembra che proprio a te ho detto il mio pensiero, perché poi rivedendo la partita ti rendi conto che la prima munizione l'abbiamo avuta noi, se uno si rivede tutta la partita ce ne erano almeno due o tre prima. C'è un rigore sacrosanto sul Cuppone perché Cuppone viene punito perché cadendo prende la palla con le mani. Questa è la detta dell'arbitro, non me l'ha detta personalmente, questa cosa. Cuppone non cade sicuramente per opera dello Spirito Santo. E poi c'è un'azione che diventa pericolosa per la Fispesaro quando c'è un fallo di mano nettissimo, visto anche da quelli che stavano al bar fuori dallo stadio, con il quarto uomo che alza la mano per segnalare il fallo e l'arbitro se ne sbatte. Poi alle volte in queste partite qua, ha ragione chi dice che in queste partite qua poi devi essere alla fine pure contento, perché magari in un calcio d'angolo prendi un gol e finisce la partita. Devi rammaricarti di qualcosa. Io credo che il calcio sia un'altra cosa. Credo che... non sono d'accordo con l'allenatore dello Spirito che dice che per vedere lo spettacolo bisogna andare al circo. Per vedere lo spettacolo... e questo è il motivo per il quale il calcio in Italia viene abbandonato, perché se dobbiamo vedere una partita di calcio che non è spettacolo, è chiaro che la gente sta a casa e si vede qualche altra cosa. C'è la Lucchese, è un avversario difficilissimo. Assolutamente sì, ma sono tutte difficilissime le partite che ci attendono, perché c'è la Lucchese, c'è la Carrarese, c'è la Torres, ma tutte le squadre in questo campionato hanno dimostrato che nel campionato di Serie C tutte possono vincere con tutte. Io ho visto in un girone che non è il nostro, però sono rimasto sorpreso dalla vittoria del Sorrento a Francavilla. Francavilla che stava andando benissimo prende cinque golli in casa dal Sorrento. Quindi è un campionato difficile, è il terzo anno che lo giochiamo, è un campionato che abbiamo visto che veramente non è facile per nulla. Né per chi allestisce delle squadre che sono sulla carta le più forti, né per chi magari parte in sordina e poi arriva là davanti e ti vince il campionato come è successo l'altro anno.